io adesso chiudiamo insieme diciamo no meno meno insomma come capita in un'iscussione come questa uno gli verrebbe voglia di ricominciare ma non lo facciamo però semplicemente mi pare che abbiamo una serie di cose che potremmo dovremmo continuare ad approfondire penso a questo tema di guerra alla guerra io la prendo come la diceva Andrea perché significa precisamente definire a che punto siamo nelle condizioni di questo nostro pianeta e per questo ad esempio il rapporto tra suprematismo spiace molto che Alessandro Scassellati che su questo ci ha aiutato moltissimo oggi poi si è dovuto andare via e lo ringrazio di tutto il lavoro che fa universalismo ma anche vita e tecnologie insomma sono cose che vengono nominate ma che poi richiedono lavoro e capacità di comprensione naturalmente l'Europa che è il nostro eh punto fondamentale tra l'Europa delle nazioni come veniva ben definita alla fine del Pospolino Napoletano e per rimanere in famiglia se non si arrabbiano l'Europa democratica eh federalista di cui parlava Andrea insomma perché un conto è nominare le due cose e poi vedere che cosa c'è in mezzo che cosa succede. Eh ehm ha parlato Camilla ci tengo molto a rapporto con loro si chiamano paese reale e insomma alludono diciamo a questa condizione materiale delle persone e qui abbiamo anche discusso un po' ehm ad esempio dell'esigenza che ci sia un blocco sociale ma che ci sia anche una narrazione che è stata molto eh evocata e che ci sia una capacità di parlare ai milioni ecco diciamo nell'epoca contemporanea non è facile capire come ci si muove insomma no? Eh per stare in famiglia mia tra fare eh praticamente tutti i giorni altramente tutti i giorni stare in fredda come faccio io insomma ecco e e però eh sono che cos'è un Gramsci della contemporaneità? Cioè che cosa significa un blocco sociale che sia capace di cimentarsi con una battaglia dell'idea che non riguarda le elite ma che riguarda i milioni eh con i consumatori della comunicazione e abbiamo visto che poi la manipolazione della comunicazione è continua io mi sono seguito tutta la storia del Consiglio europeo l'altro giorno era anche divertente nella sua tragicità perché Michel eh senza firmare ha scritto un comunicato che ha impestato di sé l'insieme dei dei giornali di tutto il mondo dicendo eh riprendendo Cicerone sostanzialmente perché quella era la citazione politica quella filosofica più lontana del para si vis pace e un parabellum e poi Cicerone era proprio per fargliela fare la guerra Antonio contro Ottaviana e c'è anche riuscito quindi un mix tra guerra civile e guerra imperiale e quant'altro credo che abbia passato un brutto quarto d'ora dentro al Consiglio europeo perché l'hanno ricondotto al burocratese del Consiglio ma la sostanza è quella che è stata detta da Fabio Alpera. Penso al tema delle intersezioni eh che appunto eh parola eh complicata a dirsi quindi tante cose e per cui ci abbiamo molto da lavorare eh da questo punto di vista ehm facciamo tante cose eh ringrazio tutti quelli che le fanno abbiamo visto Laboratorio Sud, Osservatorio Europa, tutti quelli che hanno collaborato, non ha potuto parlare Tonia Toffanine che è lì con ehm collegata che partecipa a questi progetti sulla eh il lavoro eh la coalizione del lavoro eh abbiamo fatto già due con una è pubblico l'altro è tenuto segreto dal nostro direttore perché sarà diciamo un momento sconvolgente dei rapporti di classe nel nel mondo però prima o poi riusciremo a renderlo pubblico e come abbiamo fatto per esempio un lavoro sulla comunicazione eh molto efficace sempre grazie Alberto eh su Media Alliance eh eh che ci ha portato naturalmente a collaborare con Left e con molti altri giornali ehm in Europa eh e così il lavoro che è stato richiamato anche da Piero Bevilacqua eh per questo grazie veramente grazie a tutti un grazie speciale a Maria Pia che non c'è qui eh ma senza la quale Giancarlo non farebbe nulla di quello che fa perché normalmente il mercoledì eh scherzo la coppia collaudata sul campo Giancarlo e eh Scotoni e Maria Pia eh Calemme è straordinaria anche nel modo di interruire nel senso che Giancarlo giustamente è un po' più nervoso e quindi se devi fare una correzione di una virgola all'ultimo istante del tredicesimo paragrafo del trentasettesimo libro che ci ha mandato qualcuno fuori tempo eh bisogna passare per Maria Pia perché altrimenti la situazione diventa nervosa grazie Maria Pia grazie veramente eh di tutto ora eh tutta questa baracca è retta eh da un direttivo che io noi proporre io proporrei di confermare per adesso poi faccio una proposta aggiuntiva che era fatto se non ci sbagliamo di Nicoletta Pirotta, Elena Mazzoni, Franco Ferrari, detto anche penna verde e per chi viene dal PC si sa che cosa significa perché il nostro correttore politico ufficiale l'equivalente di Togliatti sostanzialmente e eh Riccardo Rifici per la parte rosso verde e questo lo proporremmo di confermare come proporremmo di approvare il lavoro fatto da tutti i punti di vista dall'associazione non so che cavolo le cose formali dovresti fatte ma le faccio io adesso e prima un grazie eh a Roberto Morea senza il quale tutta questa roba non esisterebbe senza il quale io oggi stavo a Pianzano in Santa Pace perché non ne posso veramente più ogni volta padrinissimo dice ma perché lo fai ti piace? No lo faccio per Morea e no compagno straordinario che ha retto tutta questa fase in maniera incredibile e che io propongo ben confermato presidente a vita eh senza così la prossima volta non lo dobbiamo fare da capo e così via. A proposito di a vita ciascuno di noi c'ha il coccodrillo pronto per cui se dovesse succedere un decesso incredibile no no era una vecchia tradizione del PC è una bellissima non l'abbiamo decisa ognuno si è scritto il suo e questo come proposta innovativa eh eh che vorrei proposto proporre ma bisogna lavorarci e costruire una sorta di comitato scientifico in più ma che sia scientifico nel senso eh comunista del termine cioè che le teorie e prassi che renda stabile almeno tre volte all'anno non lo so in rapporto con gli altri perché è vero eh che tutti noi siamo un po' mona di la descrizione che ha fatto che ha fatto Andrea alla fine di quello che è stata ma mi è presa una cosa terribile non so se mi riprenderò eh e e invece noi dovremmo provare questa cosa federativa eh tra di noi no a rete almeno questo no eh però posso dire che trasformo una di quelle che ci prova più da tutti cioè siamo quelli che chiamano che chiedono che fanno oggi sono molto contento c'era paese reale c'era numeri pari c'erano eh tante altre cose CRS left eccetera eccetera insomma ecco vorremmo provare a ricostruire eh diciamo una piccola relazione permanente e quindi proveremo a tutti di riuscire a vederci almeno in rete una volta ogni tanto la sinistra europea direi anche non te l'ho detto ma mi prendo la massima responsabilità eh cioè Elena eh Elena eh Leonora e Anna mi pare che sono così anche la quota eh Piero e così via cioè ricostruire una cosa non tante regioni quattro all'anno però che magari anche tematiche a che punto siamo insomma in modo che eh diciamo che ci abbiamo un piccolo passo in più ho finito metto in approvazione Morea eh così me la cavo no scherzo applauso grazie Roberto Mo dici qualcosa tra te? No io ringrazio chiaramente tutti quanti permettetemi di ringraziare in particolare Roberto Mosacchio perché il lavoro la capacità politica eh c'ha anche una sua valenza e lo ringrazio non non solo da amico eh ma da da compagno e credo che questo sia un valore in più che eh Transform è riuscito a costruire in questi anni mantenere. C'era anche Patrizia Sentinelli. Ringrazio Patrizia Sentinelli perché senza Musacchio non si può nominare Patrizia Sentinelli. No no ma sarebbe difficile per me escludere qualcuno di voi che che partecipa la vita quotidiana di di Transform Italia sono convinto che eh questo spazio ehm sia utile e quindi eh è stato capace negli anni eh di mantenere questa fiammella europea accesa anche qui in Italia e penso che il lavoro che ci aspetta ancora più difficile negli anni prossimi e quindi avere la capacità di essere includenti e avere la capacità di eh cooperare e partecipare anche a un lavoro anche più ampio collettivamente è sicuramente indispensabile per superare eh le intemperie che ci che ci aspettano. Non la faccio molto lunga e vi ringrazio eh vi saluto e vi ringrazio comediato qualcuno. Grazie. Buona giornata a tutti e ci vediamo prestissimo innanzitutto sul sito. Grazie. 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 Grazie.